GF VIP 7, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, ieri si inghiuzzavo colpa tua, quando perdi la regina è difficile riaverla. Dopo il confronto delle scorse ore, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono ritrovati in giardino a parlare nuovamente e anche questa volta è stata la modella a prendere l'iniziativa. Confidando al volto di Forum tutto ciò che l'ha fatta stare male in questo ultimo periodo e l'ha invitato a proseguire il suo percorso da solo. Capodanno insieme non l'abbiamo fatto, anzi ti sei rivelato per quello che non eri praticamente. Ho saputo cose che non mi sarei aspettata da te e quindi mi sembra giusto che tu continui a farle per colpa tua. A divertirti. Sono stata molto male in questi giorni e non succederà mai più penso. Sarò più razionale. I tuoi amici cari ci sono riusciti in una cosa, per il tuo percorso pensa a te stesso e spero che in sei facciano una me e ti faranno da supporto. Visto psicologico. Visto che io ti ho rovinato il percorso e ti facevo vivere male questa esperienza. Spero che ti faranno vivere meglio questa esperienza, ti faranno essere più te stesso, spero. Sicuramente sei una persona che non vorrò più vedere nella mia vita, non ti ho mai messo dei paletti e non te li metterò perché non stiamo più insieme quindi puoi stare con i tuoi amici. Spero che te ne pentirai, non adesso, ma più avanti e non piangerò più in quel modo perché ieri si indiozzavo per colpa tua. Se devo stare con te e sentirmi sola preferisco stare sola, quindi perché io dovrei stare con una persona che non la pensa come me? Se io sono così caratterialmente e non tradirei mai un'amica o un fidanzato perché devo accontentarmi di un fidanzato che mi ha trattata male per una settimana? Tu mi avevi chiesto di non parlare con un elemento che per te era deleterio, l'ho fatto. Ma io non ti ho mai chiesto di non parlare con sei persone che mi hanno aggredita. Sparlata, mi hanno detto le peggio cose. Quando parlavano male di te all'inizio che dicevano che eri una persona arrogante. Io ho sempre parlato bene di te. Quando perdi la regina è difficile riaverla. Devi tenere un pedone fino alla fine, non è facile e ci vorrà un po' di tempo. Si muove di uno. Liric vorbința, ajungă la ea doar nasa cu racheta. Să o admire nave spațiale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, îl execuți ca pe Maria Antoaneta. D'aia de când mă știu textul-i plin de dude. Dumele tante printre dale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri buite. Cum rup capete lumea de din capă rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc. Că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine. Fii egoist, ar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu. Grafărul din Totto, tot MC-ul. Care am crescut, pe scurt, de la un p-